Buonasera, ci vogliamo innanzitutto scusare per il ritardo sia con i giornalisti italiani che con quelli portoghesi. Non è colpa nostra, però ci scusiamo comunque noi. Pedimos disculpa per l'attraso, non fu colpa nostra, ma tamo sa chi può pedirle disculpa. Allora, cominciamo con il Corriere dello Sport per il Ministero Gagliari. Buonasera, Gassi. Io non so che idea abbia lei di questo momento, ma come lo vive e soprattutto eventualmente ci sia qualcosa che non va, immagino ci sia qualcosa che non va. Qual è la causa? Non va perché oggi parliamo della Champions, però non va in campionato perché siamo solo quinti e vogliamo essere in una classifica migliore, però è solo l'inizio della stagione, avevamo iniziato bene con due vittorie e poi è arrivato una sconfitta, con solo un tempo giocato benissimo e un altro no. e poi è arrivato un pareggio giocando solo bene il secondo tempo, quindi la cosa logica sarebbe di dire che dobbiamo essere più continui, però veramente con esperienza possiamo anche dire che il campionato è il campionato, la Champions League è la Champions League, quindi è un'altra competizione, c'è il girone da superare, sono solo sei partite, vuol dire che tutte le partite contano molto di più che quella di un campionato a 38 giornate e quindi domani noi siamo qua per vincere, arriviamo con ambizione, con determinazione ma anche con fiducia. Grazie. 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 Sbagliati i ultimi 30 minuti con la Lazio e i primi 60 con il Genova, quindi si può parlare anche dei 90 minuti. Poi è vero che si voleva dare continuità a quello che si era fatto nelle prime due, non siamo riusciti, però la squadra è unita e il sentimento è quello di voler vincere tutti i costi domani perché è una partita importante, una notte di Champions, quindi siamo carichi a mille. La traduzione. La domanda è la domanda di qual è il spirito per il gioco di mangiare, anche nel balneario. La risposta è che l'equipa è pronta per mangiare. Non possiamo parlare di un momento ma del campionato perché solo avevamo i risultati negli ultimi due giochi che avevamo il modo di analizzare. Pronto, amanhã vamos a fare lo meglio per ganare, vamos a essere uniti. Hai sentito il presidente dell'Orentis? Ma come ne più ne più ne meno che di solito, penso che l'ho chiamato domenica e che mi ha richiamato forse due giorni dopo che sarebbe stamattina. Quindi non di più e non di meno. Sereno, tranquillo. Io sono sereno, tranquillo, sì sì. Presidente? Sembra, chiedetelo a lui. Preguntarono se l'ho fatto con il presidente dell'Orentis, se l'ho detto che l'ho fatto con l'Ele, siamo due minuti tranquilli. Corriere della sera per il mister. Salve mister, sono qui. Buonasera. Lei, dopo la partita con il Genova, è stato tra i primi ovviamente a non essere contento della prestazione del Napoli. Cerco di essere diretta. Secondo lei, come cosa più importante, cos'è che non funziona ancora? Nel Napoli, che lei probabilmente avrebbe voluto vedere e ancora non ha visto in campo. Grazie. Dobbiamo essere più efficaci, perché le due ultime partite non abbiamo preso abbastanza la porta. E poi dobbiamo essere in grado di finire le partite senza prendere gol. Però, sulle quattro prime partite abbiamo subito cinque gol, che sono troppi. Però, analizzando le statistiche, abbiamo subito otto tiri nello specchio per cinque gol presi. Quindi, vuol dire che non difendiamo così male e che non siamo fuori posizione, perché abbiamo preso un rigore, due palle inattive sull'ultima partita. E invece contro la Lazio, più due contropiede. Che voglio dire? Che non è mai la stessa cosa. E che poi, statisticamente, se concediamo poco come concediamo dall'inizio, prenderemo meno gol, faremo dei clinchit. E sarà più semplice anche vincere le partite. Dopo il gioco con Genoa, cosa ancora non funziona? Abbiamo di essere più efficaci, abbiamo di fare più tiri nella balizzazione, abbiamo di finire i giocatori senza soffermi gol. Nel ultimo gioco abbiamo soffermi cinque gols, ma abbiamo potuto parare molti tiri nella balizzazione. Portanto, la statistica non è stata molto male. Claudio Avivenzio, Tele A per Mario Ruiz. Ciao Mario, Claudio Avivenzio di Tele A. Forse mi ricollego a quello che diceva il mister, perché il mister vuole proseguire questa scia di pressing ultraoffensivo. Come mi spieghi e come ci spieghi che quello che era un vostro punto di forza ad oggi sembra il tallone d'Achille, un punto debole dal momento che prendete quasi sistematicamente in bucate? Grazie. Buonasera. Non penso che sia, penso più che altro che le squadre magari rispetto all'anno scorso sono state più sorprese di quelle che facevamo noi. Quest'anno sicuramente sono tutti molto più preparati. ogni volta che affrontano il Napoli, come giusto che sia, sono più preoccupati, magari stanno anche preparandosi meglio. Poi tocca a noi, i calciatori in campo, giustamente anche durante la settimana con il mister, cercare di migliorare. Anche se con tutto il rispetto parlate di un momento così difficile, parliamo unico e esclusivamente di due due partite. Mi sembra un po' esagerato tutto questo pessimismo, però cercheremo di migliorarlo e dare una immagine diversa già da domani, che così magari cambiamo un po' di pensiero a tutti quanti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Buonasera. Buonasera. Notti di Champions, notti di torneo più prestigioso che c'è al mondo e quindi notti di grandi protagonisti. In Napoli ha Osimen e Quarastere che tra l'altro sono fra i 30 del pallone d'oro. A che punto sono? Perché sono loro un po' le stelle da accendere, senza ora esagerare. Come li vede anche nel rapporto fra loro in campo? E poi se ci può dire di Nathana a che punto è, se è più vicino al suo esordio, eccetera. Tutta la rosa è importante, chi inizierà è importante, però l'abbiamo visto anche nelle quattro prime partite. Non è che facciamo solo un risultato con gli undici che iniziano. Poi ovviamente davanti, Vittor aveva iniziato molto bene, aveva fatto tre gol in due partite e da due partite non ha segnato. Però statisticamente è ancora più vicino a fare gol e speriamo per lui che sarà domani. Per Gvic è un po' differente. Lui è stato frenato durante la preparazione, un po' come Mario, da infortunio che l'ha ralentato sulla preparazione. Ha saltato alla prima, adesso ha potuto solo entrare nella seconda e non poteva giocare 90 minuti nella terza. Ci ho parlato perché io lo voglio tranquillo, lo voglio sereno. Ovviamente non vede l'ora di essere decisivo, di fare un gol perché penso che fa un po' di tempo che non l'ha fatto. Però secondo me il migliore modo per lui per fare gol è non pensarci, prendere piacere a giocare e poi essere decisivo. Anche con Assis come l'aveva fatto contro il Sassuolo sarebbe già molto buono. È un grande giocatore, quindi domani come lei ha detto è la regina delle competizioni. Tutti noi, i calciatori, i allenatori, sogniamo di giocare questa competizione, di andare più lontano possibile. E quindi sì, sono d'accordo. Queste serate sono anche fatte per grandi giocatori e Gvic ne è uno. La tua domanda è una domanda che sarà un giocatore molto importante. Qual è il stato, a che punto sono i Cimè e la Caraschella? Il ministro dice che tutto il plantello è importante, i risultati che avevano sono solo con i 11 iniziati, ma con tutto il plantello. Il Simeone, statisticamente, sta più esperto per fare un giocatore e spera che sia mangiato. La Caraschella è stata lesionata, portanto, è stato parato durante qualche tempo. Non giocò i 90 minuti interi. La Caraschella ha molta volontà di fare il gol a mangiare, ma se lo faccio con lui, bisogna stare tranquilli e approfittare il gioco. A mangiare sogniamo di giocare bene e di arrivare il più lungo possibile. Ciao Mario, mi ricollego al discorso che faceva la collega Vivenzio sui punti di forza della scorsa stagione, che in questa si sono tramutati un po' in punti di debolezza. Ad esempio la condizione atletica, quella brillantezza, quella freschezza che si è vista per quasi tutta la stagione scorsa, in quest'inizio sembrerebbe essere un po' velata, un po' più scarsa. È cambiato qualcosa nella preparazione? Voi avvertite questa difficoltà sul piano fisico? O è una percezione esterna? E poi se tutte le componenti, società, gruppo squadra, mister che è qui presente, l'anno scorso la coesione tra queste componenti ha portato a quei risultati straordinari, se quella coesione c'è ancora ed è rocciosa come nella scorsa stagione? Sicuramente non mi ricorderò tutta la domanda perché è stata veramente lunga. Il gruppo è coeso, alla fine il gruppo è praticamente lo stesso, quindi il gruppo è lo stesso e non ci sono problemi. No, quello non ci sono problemi, infatti ci dispiace anche se parli così tanto perché il gruppo tra squadra e staff è unito, è compatto, ci troviamo tutti bene e poi continuiamo. La condizione fisica è buona, secondo me è solo una questione di percezione da fuori perché la squadra fisicamente sta bene, anche di tutti i test che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, i dati sono buoni e la squadra sta bene. Quindi sì, sicuramente ci sta anche, si può parlare solo a livello di gioco che la squadra non sta esprimendo al massimo, però quello è anche un merito nostro di calciatore che alla fine siamo noi che scendiamo in campo. Poi le statistiche non vogliono dire tutto, però nell'ambito della preparazione fisica sì, vogliono dire tanto e solo per rispondere nel secondo tempo contro Genoa sono state statistiche molto più, fa molto più, erano più alte che sul primo tempo quindi sembra che una scuola che sia stanca non può fare questa cosa. Bene. Prego, Federica. La questione, sono due domanda. Se la squadra fisica è più fracca o si sta bene e se si è cambiato o qualcosa di preparazione e se la squadra è ancora unita e la squadra si è unita. Il squadra è ancora unita, la squadra fisica è stata bene, tutti i testi sono positivi. questa è solo una percezione che le persone hanno all'interno, perché a livello statistico non siamo a esprimere il massimo, ma non siamo a giocare così male. E il mistero dice che la statistica non è tutto, nel secondo tempo con la Genova la statistica era più alta, era più grande per Napoli. Eccomi qua, buonasera. Volevo chiederle, che avversario sarà il Braga domani e che tipo di partita deve fare Napoli per tornare a casa con un risultato positivo? Grazie. Ripeto, perché voglio che sia tradotto anche questo, noi veniamo per vincere con determinazione, ambizione e anche con fiducia. Che partita mi aspetto? È una partita fuori casa con una squadra del Braga che è delle qualità. Conosciamo bene anche alcuni giocatori che hanno giocato in Francia, a Monaco, a Lila, a Mutigno, a Roni Lopez, a Fonte. E quindi hanno giocatori di qualità, sia a Bruma, che era in Germania, sia a Giallò, sia al centroavanti a Berluis che è della Spagna. Quindi hanno qualità, ovviamente. Però, ancora una volta, noi vogliamo iniziare bene questo girone di Champions. Dobbiamo essere continui domani e dal primo minuto far vedere che veniamo qua con determinazione, come l'ho detto, e poi mettere tutto in campo per finire con tre punti e iniziare bene questa Champions League. Qual è il Braga che si spera a mangiare? Qual è il gioco che tende a fare Nápoli? Noi arriviamo con determinazione, missione e confianza. Non sarà un gioco facile, perché giochiamo fuori casa. Il Braga ha anche molti elementi con molte qualità, che già giocano a estrangeiro, come, per esempio, Moutinho, Fonte, connessiamo a Bruma, Giallò, Ruiz. Ma pronto, noi vogliamo cominciare molto bene e mostrare, a partire dal primo minuto, che siamo determinati e a capire con i tre punti. Buonasera a Mario. Ti volevo chiedere, dopo diversi anni che sui calciotangoli marcavata zona, quest'anno siete tornati a marcare a Uomo. È un minus, è una problematica o solo una coincidenza i gol presi a Genova? No, sicuramente è una coincidenza, perché poi alla fine, anche l'anno scorso, abbiamo sofferto un pochino sui calciotangoli, quindi penso che sia più che altro una coincidenza. Alla fine, difendendo a Uomo a zona cambia poco, bisogna difendere l'uomo con la zona lì, quindi sicuramente è uno dei punti che si deve migliorare, perché abbiamo subito un gol sulle pali native, però è una coincidenza, una vera coincidenza. Per ora è una buona domanda, grazie per la domanda. Mi piace questa domanda. Grazie mille. Buonasera, quanto è lontano il Napoli che lei ha in mente da questo Napoli attuale? Quanto è deluso da questo momento che sta attraversando o sorpreso dal rendimento del Napoli di queste ultime due partite? No, deluso per niente, neanche sorpreso. Io devo imparare la squadra, la squadra deve imparare me, però l'inizio era buono, diciamo che abbiamo avuto una frenata a casa contro la Lazio, non se lo aspettavamo all'intervallo soprattutto perché secondo me abbiamo il primo tempo contro la Lazio, è il migliore dall'inizio della stagione. Quindi continuità ci serve durante una partita e è questo che cercheremo di ottenere già da domani. La tua domanda è quanto è che si sta disiludito con il Napoli e con i risultati? Non sta disiludito il mister, ma tende a conoscere bene l'equipo e l'equipo precisa di più di continuità, che è quello che ha fatto nei ultimi giochi. Prima di passare a Torre Rosso per il finale che è di Napoli, il mister Ragazzetta ti contava prima, ha chiesto a che punto è in Napa? Vi avevo spiegato che almeno abbiamo avuto la sosta internazionale per farlo lavorare, adesso sembra che non ha più problemi fisici perché ne aveva un po' quando è arrivato, è un problema al ginocchio, è sparito, quindi è più vicino, sì, a essere pronto a entrare in questa squadra, però io lo voglio anche mettere con buone condizioni, diciamo. Ecco, solo questo. Preguntarono a Nathan, non è stato parato durante alcun tempo, ma ancora sta a lavorare, non c'è un problema, se vorranno a giocare, e sarà mai il prossimo di poter cominciare a giocare. Buonasera Mario, abbiamo parlato del gruppo, dal punto di vista personale, giochi in Portogallo può essere un modo per ritrovare la nazionale? Sicuramente non è il mio primo pensiero, il mio primo pensiero è quello di aiutare la squadra a fare una buona partita e uscire da qui, quei tre punti, che è quello che vogliamo. Poi per me è un piacere ovviamente tornare in Portogallo e affrontare una squadra portoghese, però il mio primo obiettivo è quello di aiutare la squadra e vincere la partita. Pronta, pregunto a voi, se il gioco in Portogallo va a essere un'opportunità per entrare in selezione nuovamente? La risposta a voi è che il primo obiettivo è che è di aiutare la squadra e di raggiungere le punti da mangiare. Allora abbiamo le ultime tre domande alla parte della squadra portoguese, le primi due sono per Mario Rui e le ultime per il trego. Viva Mario, buona noite. Buona noite. Perguntava-te come è che olhas per questo Braga che sta con varii internacionais portuguesi a questa epoca, una equipa che apparece, nel plano teore, come il Braga più forte dei ultimi anni, per i giocatori che ha, per il nome che ha, come è che olhas per loro? Perguntava-te anche un po' di curiosità, come è che ti senti a Napoli per la settima epoca e soprattutto per essere un campeone a Napoli, come è che è questo? Nas ruas di Napoli per te? Ovviamente, sto d'accordo con quello che dice, è una delle migliori equipi del Braga nei ultimi anni, basta olhar per il mix che ha questa equipa, in termini di esperienza, in termini di giocatori gioventi, è una equipa molto competitiva, è una equipa che ha molta qualità, sia individual come coletiva, è sicuramente che abbiamo bisogno di avere molta attenzione alla equipa del Braga, non solo alle individualità che ha, è sicuramente che abbiamo trovato un Braga a garrir, perché anche viene del gioco meno positivo, ma è sicuramente che entra in campo per fare il miglioro. Poi, a seconda, in Napoli, è la mia settima epoca, incontro-mi bene, ovviamente non potrei stare tantos anni nel clube, è un clube che ti dà molto, i adepti sono sempre perte da equipa, questo è sicuramente che fa la differenza quando giochiamo, e Napoli, ovviamente non è... La domanda è stata che Braga si aspetta domani, visto che la squadra è molto forte, come si sente a Napoli? Sicuramente il Braga è stato, è uno dei migliori degli ultimi anni, in termini di esperienza, competitività, dobbiamo stare molto attenti a tutta la squadra, perché sicuramente entrerà in campo per vincere. A Napoli sto bene, sono sette stagioni che sono lì, il clube dà molto, i tifosi sono sempre molto vicini, e questo fa la differenza, e Napoli è una delle città più belle in cui sono stato. Ciao a Mario, qui, viva. Qui in Portugal, quando fu al Mondial, si diceva molto, si diceva molto perché il campione italiano non ha stato chiamato alla selezione, e continua a non essere chiamato. Entendete il perché di questo? E non è stato magoato per non aver chiamato al Mondial? Non, magoato non, è chiaro che era... Preferi aver fatto parte del lotto che fu convocato, perché al inizio era un obiettivo, ma magoato non, perché sai che al fin e al cabo il treinatore ha di fare escolhe, optò per altri due, io fiquei di fuori, ma ovviamente di fuori fui più adepto, ovviamente desidero meglio ai miei colleghi e a tutti che stavano a rappresentare la selezione. E' questo. Durante il Mondiale si è parlato molto sul perché il campione italiano non sia stato convocato in nazionale, se questa cosa l'ha fatto stare male. Non è stato male, ovviamente era un suo obiettivo far parte della nazionale durante il Mondiale, ma l'allenatore ha dovuto fare delle scelte e lui è rimasto fuori, quindi ha visto il tutto come un tifoso del Portogallo. Prima domanda per il Ministro. Buona notte, Ministro. Hà cinque anni, quando treinava o Marsella di fronte a Braga, perguntavo-lhe se acha che do che conosce do attuale Braga, se questo Braga è più forte do che ha cinque anni, e anche in relazione a un Napoli, il Napoli è il favorito per l'amano, il proprio treinatore di Braga admite questo, se acha che spera che i giocatori di Braga estejano a spera di un Napoli in excesso di confianza per causa di questo favoritismo? E traduci prima? Sì, io ho giocato qua con il Marsiglia, però era Europa League, era un'altra squadra, un altro tempo, non è più... è totalmente differente, però torno qua con piacere, è uno stadio particolare, però come ho detto prima, sulla prima domanda, il Braga è cresciuto tanto, visto che adesso è in Champions League. L'infrento Braga in Europa League, era una competizione differente, la volta a chi sempre con molto prasere, è chiaro che ancora Braga cresce molto, perché sta a giocare in Champions League. Sul Braga, il Napoli può avere un eccesso di fiducia? No, no, noi rispettiamo gli avversari, tutti gli avversari, faremo in modo di giocare al nostro 100%, solo questo. E ho tenuto il rispetto per tutti gli avversari, portanto. Ok, grazie. Grazie e buonanotte. Buonanotte. Buona cena. Sì, soprattutto. Hai ragione, grazie.